Consumi energetici delle famiglie. Nel 2022 in Puglia le bollette di elettricità e gas sono raddoppiate. Vediamo il servizio. Nel 2022 in Puglia si è speso il 108% in più per l'elettricità e il 57% in più per il gas. E' quanto rivelano i dati dell'analisi condotta da Facile.it, secondo cui Puglia risulta l'area dove si è speso di meno per l'elettricità, ma è la seconda provincia per i consumi annui di gas, dopo Lecce. Lo studio si è basato sui dati di consumo, dichiarati in un campione di oltre 400.000 contratti di fornitura luce e gas nello scorso anno. Nel complesso sono stati considerati i prezzi del mercato tutelato, le famiglie residenti in tutto il territorio regionale con contratto di fornitura, che hanno speso per la sola bolletta elettrica in media 1.452 euro e 1.109 euro per il gas. Su quest'ultimo fronte però i pugliesi hanno pagato il quinto conto più leggero in Italia. Osservando l'andamento provinciale della bolletta elettrica, in totale tra luce e gas nel 2022, i pugliesi hanno pagato mediamente 2.561 euro a famiglia. Al primo posto si posiziona Lecce, poi segue Brindisi. Si registrano invece valori inferiori alla media regionale per Taranto, Bari e Barletta Andrea Trani. Ultima in classifica è Foggia, dove sono stati rilevati i consumi più bassi della regione. Per quanto riguarda l'andamento provinciale della bolletta del gas, anche qui i costi si diversificano in base ai consumi medi rilevati. Dall'analisi emerge che anche nella classifica relativa al gas, Lecce si posiziona al primo posto tra le province più care della Puglia, seguita da Foggia, Brindisi e Bari. Sotto la soglia dei 1.000 euro inoltre, le bollette per Taranto e Barletta Andrea Trani, dove le spese per il gas sostenute si registrano solo sugli 890 euro. Ma la riduzione del prezzo della materia prima registrato all'inizio di quest'anno apre a scenarie prospettive un po' più positive.